Oggi siamo a Greccio, comune in provincia di Rieti, molto noto per il presepe di San Francesco, cioè un'attrattiva di un piccolo museo internazionale dei presepi, in questo momento ci sono anche i mercatini di Natale e poi a un paio di chilometri di distanza c'è il santuario. Vedremo cosa riprendiamo oggi, è una giornata meravigliosa fortunatamente, anche se è un po' fredda. Buon divertimento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!